Allora qua, questo lo devi tenere sempre dietro la schiena perché... Tieni per favore. Questa parte non funzionerebbe senza. Andrà nel mio toraccio? Sì. Attaccato al tuo cuore. Mi farà sembrare più muscolto? Beh, non fa miracolino. Che ne pensa, dottor Lì? Carino? Grazioso. Un uomo ha scalato le Alpi Svizzere con uno di questi. E tu provaci, ci vediamo in chirurgia. Ciao.